ma si funziona che avvolte giochi alcuni giochi nel suo porto continua partita ci stiamo bene sta attaccando un cavo ecco attaccando a perciò da fan con i live non ho mica capito se andava in live oggi le notifiche è andato in live da ieri che non funziona i notifiche di twitch bene che ce l'attive e in live dopo lo light c'è incantato non ricordate la così lungo ma la demo è la cosa c'era poco di caricare la demo effettivamente cosa stavo facendo cosa sta succedendo dottor luisin che mi sa dinamica di gioco schermo ah è vero i dialoghi sono sottofondo aspetta che controllo qua città 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 ah vabbè tanto guarda non penso che tanto sono gioco da singolo poi va bene così allora resync lo toglie ah non c'è questo giusto attiva limite di ok ma la vale ha messo limite va bene va bene così forse lo togliono ma lo lasciamo a posto non mi ricordo più i tasti ah il fondo è la mutazione presso l'impianto un impianto solare che mi lagga prima c'è la demo andava bene niente niente cassa quanto C'è qualcosa che non mi convinci, cosa devo sistemare? A parte che questa missione l'avevo già fatta, perché mi fanno nottonare alla base, in teoria. Posso dire che devo farla per forza questa, vabbè la facciamo, ha capito io perché lagga, perché l'ho lasciato dalla roba sotto, abbiamo chiudito Discord, lo privato, Telegram, tutte le app. Allora, aspetta, cambio scena. Bello! Allora, chiudiamo Discord. Poi cosa è che devo chiudere? Telegram. Oh! Non si chiude Telegram. Vabbè, lasciamo così, cambiamo scena. Ah, è qua! Oh, sono in città, chiudo. Poi, cambiamo scena, che cazzo è successo? Oh, ci siamo. Poi andiamo, andiamo, sembra che gira più fluido, adesso. Oh! Oh, adesso mi faccio vedere. Ah, ho già affrontato questo, cioè l'ho già fatta nella demo, ma si vede che devo farlo per forza. Che? Eh. Oh. Oh. Buonkö는. 票 per month soprattutto, questa cosa? Oh, è, come poi la No, volevo passare a me Oh 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 Non mi ricordo più i tasti Ok Ah Sto muonendo Oh Cazzo Ah Sono top Avanti Au Se Ma questo è il cecchino Dov'è? Chi è? Ah niente Ah già che non c'è la pausa Cazzo Dov'è? No 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 Adesso è morto mancava poco Doll Adesso Dov'è di fare Cazzo che lo lascio Cazzo Sono cotto cavoli Faccio questa battaglia e stacchiamo Sono stanco Questa è l'unica L'arma più potente Non mi ricordo come si fa a spallare i ganacci Se ce l'avevo Se ce l'avevo Via Via Quanto fa così Dov'è? Dov'è il talano Ciappa Yeah Yeah Grazie a tutti. Via! Oh, chi sto per l'Hambert? Via, via, via! No, è morto. Fatto. Abbiamo la cazzina. Abbiamo la luce. Noi non moriamo così facilmente. Seth? Vieni. Dobbiamo parlare. Hanno chiesto il tuo aiuto per combattere la mutazione. Perché non l'hai fatto? Quella patetica mostruosità era solo una distrazione. C'è della gente che muore per colpa sua, senza quella linea di rifornimento. Moriranno tutti. Quelle deboli creature si ammazzano a vicenda per degli avanzi. Stai sprecando i tuoi doni, dando loro aiuto. Cercando di vincere questa inutile guerra senza fine. L'avrai capito ormai. Tu non sei più come loro. E quindi? Dovrei mettermi a giocare a fare Dio come fai tu. Io non sto giocando. Ma tu, sai qualcosa di più? Mutazione e Outrider. L'ultimo Outrider. Faccio per cui ti hanno mandato. Va! Oltre la frontiera. Questa gente ha bisogno di divinità. Solo chi è come te potrà guidarmi verso il futuro. Che noto. Lo chiamano? Moloch. Io combatto un'altra guerra. Nulla a che fare con questo squallore. La mia guerra è contro il peggiore di noi. Una mutazione potente. Ci distruggerà tutti. A meno che io non riesca a ucciderlo. Ma questa non è la tua guerra. Tu diventerai un pastore. Dovrai aiutarli a sfuggire al massacro. Outrider. Non so perché mi ha fatto iniziare qua. Da dopo la demo ho fatto iniziare qua. La linea di rifornimento è scombra. Potremmo andare così dopo la demo. Non ci credo. Non l'avevo già fatta sta missione. Città. Eh. Fai le seconde situazioni. Non ringrazio. Vieni ancora vincere la guerra. Ah si mi ricordo. Non c'è la guerra. Ma c'è qualcosa di più importante che potrete riuscire a fare. Vieni nel mio bunker. In teoria potrei anche trasportarmi. Teletrasportarmi. Ah è giusto. Ecco fatto. La telesportarci. Andiamo al bunker. Questa è la latizia. Non mi ricordo dove era. Ah si era qua. Viaggiare se. Giusto. Andai. Boh. Adesso andiamo lì. Stacchiamo. E' anche i giochi da che c'è a disco che mi faceva c'è la gare. Anche il telecom. Chiusi. Adesso va bene. Dopo gli attori di Free Street è stato arranjato. Dekka ha deciso di salvare. Quattrocento. Quattrocento. Quattrocentomila persone. Beh. Boh. Così salva mi sembra che salvava. E salvava in automatico. E' che ci mette un casino a caricare. No. Ma andiamo con un'ora che si caricava subito. Mi sembra che salva in automatico. Torna la roba. Puoi fare salvare. Come. Tu dia quanto fessi sposti. Faltezza sfolta. Vorrebbe salvarli. Torniamo alla roba. Qui. Potrò farli direttamente essi nel disco. Vabbè. Sono male. Facciamo così male. Apple. No. Vabbè. Sì che. Vabbè.